Salve a tutti e bentrovati. Oggi parleremo di tre testi. Uno è l'Angelus Novus, di cui già vi ho parlato quando ho fatto il video su Paul Klee, presentando il libro di Giovanni Volpe, consigliatissimo. E qui riprendo proprio questo titolo che è una tela di Klee e che Benjamin avrà e terrà e vedremo che dà il titolo a questo saggio e in cui si ritrovano proprio quelli che sono gli elementi dell'opera Fluence, opera Mutatis Mutandis, gradi diversi di interpretazione secondo quello che anche osserva Adorno, amico e collega tra i filosofi della scuola di Francoforte. Trattava un testo letterario allo stesso modo dei commentatori medievali e quindi come questi trattavano la Bibbia così lui trattava i testi e i vari gradi di interpretazione, quella allegorica, quella letteraria e quella anagogica. Quindi parleremo principalmente di Benjamin. Poi però ancora un altro testo che già vi ho presentato, quello di Agamben e il fuoco, il fuoco e il racconto e ancora l'arte di scomparire di Pierre Zouy. Vedremo che cosa si intende e come si lega a Benjamin. L'infanzia è quella di un rampollo borghese, agiata, ma presagisce già la crisi. È figlio di un antiquario, riceve da lui probabilmente la passione per gli oggetti, Benjamin, e cerca di capire la civiltà attraverso di essi. Diventano oggetti di desiderio, di consumo, merci di scambio, spazzatura. Lui è un materialista sui generis. Già, vedete perché mi sono vestita così rock, così aggressive, perché aggrediamo il testo. Aggrediamo tutt'altro che angelico, questo angelus novus, è legato al tema del desiderio, è legato al tema del consumismo e alla materia, come qualcosa però di scarto, di spazzatura. Andiamo ancora più dentro, addentriamoci. La differenza con Marx, però, che vede nel sistema capitalistico l'alienazione e la fatica del sistema di produzione, Benjamin invece vede negli oggetti l'incarnazione del desiderio. Tutto è disponibile, come in un paese dei balocchi, come nel paese del bengodi. Ma, come in quest'ultimo, riduce l'uomo a bestia, a schiamo, a asinello del paese dei balocchi. Il desiderio autentico, quello vero, viene tradito. L'intellettuale ha il compito di far sì che l'uomo si riappropri dei veri valori, quelli spirituali, quelli affettivi, dispersi o tenebrati, da quell'illusione collettiva di felicità, da quelle illusioni allucinogene, ipnotiche, che fanno rallentare il passo. Rallentare il passo. E ci fanno guardare le vetrine. Oh, oh, quante cose, quanti beni che vorremmo! Questo è il passo del flaneur, la flanerie. Colui che passa, rallenta, catturato dagli oggetti esposti nelle vetrine. E in Passage a Paris sono delle gallerie, melusine, come medusa, pietrificano. L'uomo è immerso, come in un acquario, in una dimensione ovattata, diviene un appendice delle cose. E c'è quindi questa narcosi collettiva. L'uomo va liberato. Non più vittima dello sguardo di medusa, recupera il suo agire e il suo essere nel tempo. Questo è quello che la filosofia di Benjamin si propone. E a proposito proprio della flanerie, che è un termine, il flaner, che ritroviamo in Baudelaire, abbiamo proprio nell'arte di scomparire di Zouy, di Pierre Zouy, vivere, e il sottotitolo è vivere con discrezione. Il contrario che l'apparire, continuo, come avviene nei social, narcisistico, in cui si vive per esserci. E qui invece si parla di un'arte della discrezione, in qualche modo. La città, la folla, porta quella che è la discrezione di Baudelaire. Al Baudelaire letto da Benjamin, che come ovvio non è però proprio esattamente Baudelaire, sto leggendo qui, avevamo infatti osservato che nel fare l'apologia di Constantis Guisse, come pittore della vita moderna, l'autore dei Fiori del Male aveva perfettamente colto l'altra faccia, l'altra faccia della nostra modernità. Vale a dire, non solo il desiderio travolgente di gloria, di visibilità personale, di rappresentazione di sé, ma anche l'amore per la vita urbana, ininterrotta, per la vita anonima delle folle, per la vita impersonale. Già quando ho parlato di Vivian Meyer e della sua fotografia, della street photography, c'è questo elemento di mescolarsi alla folla, di fotografare, di fermare, senza essere visti, immagini. Ora, rileggendolo con maggiore attenzione, possiamo constatare che egli espone in modo molto più preciso le condizioni stesse della possibilità materiale politica di una simile esperienza. In primo luogo è necessaria l'apparizione della metropoli moderna, la frequentazione delle città smisurate, come dice Baudelaire. La città è la condizione della discrezione, perché nei villaggi e nelle cittadine si viene sempre a sapere ogni segreto e nei deserti si è semplicemente soli. La questione della discrezione non si pone, quindi è proprio tipica della città, della metropoli. Solo una grande città rende possibile quello che Baudelaire descrive così, essere fuori di casa e ciò non per tanto sentirsi in casa propria, veder la gente, essere in mezzo alla gente e restare nascosto alla gente. È in questo senso, per esempio, che può descrivere il pittore della vita moderna come uomo di mondo, piuttosto che come artista, ma in senso inverso all'uomo di mondo, della società di corte, è l'uomo del mondo intero, non l'uomo di un mondo piccolissimo dove tutti conoscono tutti, ed è un uomo che si muove nel mondo come in una contrada da attraversare, non come in un nuovo territorio di conquista. Ad ogni modo è anche in questo senso che l'esperienza della discrezione acquisisce la sua prima caratteristica politica. Al tempo stesso la più letterale e limitata è la più vasta e moderna esperienza cosmopolita, esperienza del mondo intero, in una sola parola esperienza della cittamondo del capitalismo moderno. e quindi vediamo proprio che Benjamin, riprendendo anche Kafka, uno dei più grandi critici del Taylorismo, non come si pensa che Kafka sia un impolitico, apolitico, inattivista, andò anche in prigione invece per le sue idee e parla di questo eterno ritorno all'eguale come catena di montaggio, dove anche lo stile Liberty mostra come al tempo ciclico della natura si sia sostituito quello artificioso, floreale, della città che decora. Il vero desiderio non viene appagato attraverso gli oggetti, l'uomo non è una macchina a una catena di montaggio però, è questo, e l'intellettuale fa riemergere il desiderio fanciullesco, che tornerà, se tornerà un messia, non farà grandi cambiamenti. Basta pochissimo, dice Benjamin, per mutare il mondo e ruminare. Far filosofia è ruminare, diceva Nietzsche. E quindi c'è questa ruminazione continua a cui io vi voglio portare e trasportare. Ancora Zui dice, in secondo luogo ci vuole amore per la folla, che popola le grandi città, passione per la moltitudine, pensata al tempo stesso con un immenso serbatoio di elettricità, sorgente di energia ed imprevisto, una solitudine popolata, vale a dire, né uno splendido isolamento orgoglioso e presto sterile, né una solitudine altrettanto sterile. Ma ha uno stato di comunicazione asimmetrica, nella quale non si smette di vedere senza essere visti, e di essere visti senza vedere. Solo la folla, la massa indifferenziata, per chi non sa vedere, e al contempo incredibilmente differenziata, per chi sa vedere, è la comunità di chi non ha comunità, alla quale ci si può dare, e da cui ci si può ritirare, al ritmo alterno. Ragione per cui l'uomo che si annoi in mezzo alla moltitudine è uno sciocco. È ragione per cui l'esperienza della discrezione è un'esperienza politica, in un senso un po' più precisa, è l'esperienza del vero e proprio soggetto politico della nostra modernità. ovvero non di un fantasma da filosofo, ma di un vero e proprio soggetto che fa rivoluzioni reali, così come fa da terreno perfettamente fertile, per il nuovo regno della merce. Quindi vedete catene di montaggio, mercificazione, lavoro ripetitivo, mescolarsi alla folla, discrezione, tutte caratteristiche politiche, sociali della nostra modernità. In terzo luogo è necessaria poi la possibilità e la passione per l'anonimato, l'amore per l'incognito, e dell'incognito, proprio di colui che basta a se stesso e non ricerca neppure l'approvazione. La passione di non essere più nessuno, di non essere più una persona, solo un semplice elettrone senza nome, elettrone senza nome, lanciato a tutta velocità nella folla immensa. Vedete che immagine efficace e particolare che noi abbiamo e otteniamo in questo modo. Ora, una passione di questo tipo sembra in effetti stravagante in un poeta lirico ed endi, il quale per di più non ha fatto altro che sognare riconoscimento, si parla di Baudelaire, accademia francese, gloria, unicità, perché denota con chiarezza l'intuizione di un vero ribaltamento nell'esperienza politica stessa, non più esserci per un sesso vrano, un io lirico, nel posto stesso in cui ci viene ingiunto di non essere altro, che individui determinati. Baudelaire non ha edificato la sua opera, dice Bengo, a partire dalla sua esperienza di abitante della capitale del XIX secolo. L'ha conquistata a viva forza, contro e persino malgrado simili esperienze, da cui la terza dimensione politica, quella della discrezione, saper agire con astuzia e rispetto alle imposizioni contraddittorie del tempo. In quarto luogo ci vuole la flanerie, questa oziosità vagabonda, insieme sempre disponibile e sempre in movimento, l'immagine del movimento stesso, della merce del capitalismo, che al contempo nasconde le sue condizioni di produzione e le rivela al primo venuto attraverso la sua semplice circolazione. La flanerie è l'esperienza di non poter essere altro che una libera deambulazione fra le forme reificate della vita, come dice Benjamin. Il flaner è il poeta del commercio, della prostituzione, della bellezza evanescente, da cui l'estrema sottigliezza politica della discrezione, che lo caratteristica. Flaner significa condiscendere al mondo moderno senza toccarlo, iscriversi nel mondo con lo stesso gesto con cui lo si rifiuta. E qui veramente varrebbe la pena di soffermarvi, perché è un libricino sottile, scorrevole anche come stile, ma denso di riflessioni proprio sulla modernità. Ancora Anna Arendt, che conosceva molto bene Benjamin, scrive in una frase commovente, infanzia berlinese, verrà un giorno senza nubi, su cui non pioverà il denaro, oggetti non saranno più legati a interesse economico. Quindi si tratta veramente di riscattare il desiderio di infanzia e il mondo potrà così accedere ai veri valori, riscoprirà il vero desiderio di felicità. Tributo a Berlino, l'infanzia berlinese, che richiama a un concetto base per Benjamin, l'amore all'ultimo sguardo. Amore per una donna, amore per la vita, e questo io mi voglio soffermare, perché mi ha affascinato questo aspetto, non al primo sguardo, non amore a prima vista, ma l'amore all'ultimo sguardo. E qui proprio si parla di un evento autobiografico di Benjamin, che guarda una donna e questo gli cambia la vita. Guardare per primo, essere guardato senza essere reificato, senza diventare una cosa, salvare pezzi di storia. La storia di Berlino, la crisi della Repubblica di Weimar, e poi la crisi del mondo borghese, ormai al tramonto. E Benjamin, come un Angelus Novus, raccoglie i frammenti di questa storia e li preserva prima che questi si dissolvano. Si dissolvano tra le camere a gas, le leggi razziali e la guerra. La memoria recupera i valori dello spirito. Ed è questa visione apocalittica, quindi, dell'Angelus Novus, che emerge anche proprio dal quadro di Paul Klee, di cui ho già parlato. E nel mondo borghese, berlinese, della sua infanzia, ci sono questi arredi di legno scuro, pesanti, che rappresentano ciò che non si dissolve. Così, nelle dimore borghesi, non penetra la morte. Le nonne, le anziane, muoiono fuori di casa, in sanatori, e gli oggetti rimangono conservati, ma penetra il perturbante freudiano, il campanello d'allarme rappresentato dalla modernità, da una modernità che è un quotidiano, che penetra con lo squillo di un telefono. Un fatto quotidiano percepito come demoniaco, come V-Book, il folletto, gobbo, presente nella tradizione ebraica, detto il signor maldestro, così soprannominato, colui che fa andare male le cose, rompe la linearità con il curvilineo inquietante della sua gobba. E quindi abbiamo veramente questi aspetti. Agamben cosa c'entra Agamben il suo fuoco e il racconto? Agamben scopre nella Biblioteca Nazionale schedari manoscritti preziosissimi. Dedica gli ultimi anni, tre anni a Baudelaire e già nel 1996 sarebbero stati pronti per essere tradotti in italiano, ci vogliono però altri dieci anni, oggi abbiamo un lavoro che doveva essere solo un capitolo del libro I Passaggi di Parigi ma nel 1937 al 1940 si amplia. Viene detto che il punto di fuga di tutto il pensiero di Benjamin converge in Baudelaire. Pensate un po' a Agamben che cosa è riuscito a scoprire. Altro che racconto. E per fortuna che non è andato a fuoco Work in progress libro nel suo farsi interroghiamo sul significato di completato come il romano della Rose che viene poi ultimato abbandonato dal Guillaume dell'Orris rimane incompiuto viene finito oppure il festino degli dei di Bellini viene poi completato finito da Tiziano non finito compiuto non compiuto termini inadeguati in realtà tutti inadeguati perché tutto è più complesso la pratica della filologia contemporanea è vita materiale incarnata ricerca astratta materiale ma mai inerte ma è viva contiene il suo stesso sviluppo al suo interno le forme di sviluppo già in sé sono una sorta di massa essa viene portata alla luce proprio dalla ricerca così io scrivo nel preparare questo video proprio ho cercato di porre l'accento su questa stessa realtà materiale reificata materialistica ma nello stesso tempo viva come come serbatoio vivo il passato non è inerte non è come il mobilio antiquario delle case dei borghesi ma diviene un indice temporale che esige di essere letto ora non in un altro momento e quindi leggete ora questi testi perché in realtà questo non è un atto di mera erudizione ma è qualcos'altro il problema che viene anche messo in luce da un certa critica è che la vita materiale incarnata è una ricerca non astratta ma è un qualcosa di concreto perché va letta qui e ora nell'oggi se non viene letta nel tempo giusto diventa illegibile nel senso che rimane un documento erudito curioso interessante perché è testimonianza del passato ma si perde l'occasione si perde l'occasione l'occasione di che cosa di leggere quel documento quel concreto nell'oggi e di ricavarne quindi degli strumenti di ricerca di comprensione la retorica classica qui ci si richiama all'invenzio e all'alocuzio e tra queste due operazioni c'è l'imposizio la distribuzione l'ordine la disposizione secondo Cicerone è documentazione fase lunga in più in più anche fasi che Benjamin dispone attenendosi proprio alla retorica classica per Adorno Benjamin attua uno scioccante montaggio letterario così come la stessa poetica di Baudelaire voleva scioccare per questo il passaggio di Parigi risulta come raccolta di citazioni voleva essere lo schedario da cui poi risulterà l'opera in progress fluida in divenire come tutte le opere infine sempre sono in work in progress in fieri in forma fluence e quindi che attingono dalla tradizione medievale dalla filologica medievale mistica ma mai astratta implicano sempre un contatto rinnovato con la materia la mente Dio e la materia sono un'unica cosa la natura secondo la teorizzazione medievale contiene le forme è piena di forma di forma le opere hanno già uno stato inquattivo un potenziale e il compito che il ricercatore dovrebbe svolgere è educere cioè portarla alla luce e Benjamin riprende proprio il concetto di monade il materiale di ricerca è una monade è un'opera senza finestre perché in sé ha già tutto l'universo monade che rappresenta il mondo non c'è nulla di fuori la teoria la ricerca sono in realtà elementi postici ma perché non devono essere intese come qualcosa di appiccicato dopo nel post ma contenuti a priori ed è occorrere ancora ribadisco farli emergere nel momento giusto quindi e concludo con un altro concetto fondamentale il concetto dell'aura in Baudelaire e in Benjamin ha a che fare sempre con lo sguardo quindi quell'ultimo sguardo quello sguardo che è occasione per non essere reificati per guardare gli oggetti i frammenti essere guardato da essi come se ci ricambiassero quindi si instaurasse un vero e proprio scambio dialogico per Baudelaire Benjamin un mostro ibrido di poeta filosofo critico lo shock che crea il concetto di aura è sentirsi guardato da ciò che lui guarda ciò crea la struttura dell'opera eh che meraviglia sempre ibrida ibrida tra forma e contenuto lettura scrittura poesia filosofia è sempre un mostro ibrido che ci guarda dopo che noi l'abbiamo guardato e che non ci rende oggetti reificati ma che ci prepara a un continuo scambio fare esperienza dell'aura ad un fenomeno o di essere o di un essere è accorgersi della sua capacità di rispondere con lo sguardo amore all'ultimo sguardo è una cosa meravigliosa questa l'aura è il manifestarsi di una lontananza per quanto vicina essa sia anche le parole hanno la loro aura Krauss la descrive con precisione quanto più da vicino si vede una parola tanto più lontano essa guarda a sua volta e questa capacità è piena di poesia lo sguardo altrui ci attrae verso un sogno il suo sguardo sogna e ci spinge dentro al suo sogno e quindi è piena veramente di poesia lo sguardo altrui che ci attrae e ci spinge dentro dove fino ad arrivare alla reificazione quello sarebbe l'aspetto deteriore della riproducibilità tecnica come dice Benjamin dell'oggetto che rende l'oggetto massificato massa massificata pesante greve e lo sguardo è opaco l'aura è quel quid che le cose possiedono quando le cogliamo distanti da noi apparizione unica di una lontananza le montagne davanti a me sono autentiche nella misura in cui per quanto possa avvicinarmi a loro esse saranno sempre lontane quindi la distanza spaziale o temporale non è di ostacolo alla contemplazione anzi è il terreno in cui si innescano le possibilità quindi distanziamoci un pochino prendiamo un po' le distanze per vedere le cose nella loro chiarezza per non venire massificati è una distanza spaziale dalle cose ma anche temporale nel qui e ora è il terreno proprio dove la statua greca viene fatta in quel momento non può essere cambiata è eterna è una sorta di fotografia la statua greca mentre il cinema le arti della riproducibilità tecnica sono mutevoli sono senza aura ma il punto sta a chiedersi cosa serve l'arte generare esigenze che al momento attuale non è non sono ancora in grado di essere soddisfatte ecco ecco lo scarto tra ciò che c'è e che è vicino e ciò che non c'è ed è lontano c'è uno scarto uno spazio vuoto che l'uomo vuole abitare toccare e che quindi lo spinge a muoversi a creare discorsi questi legati all'arte all'estetica che sono un po' gli aspetti che la mia specializzazione in filosofia è proprio questa la laurea specialistica in estetica e che quindi io vi ripropongo vi ripropongo con il genio acuto di Benjamin e del suo Angelus Novus che ritrova l'arte di Clé che ritrova la storia che ritrova la flanerie di Baudelaire e che ancora viene citato qui nell'arte di scomparire di Zoe e ancora in quest'altro terzo filosofo Agamben che è lo scopritore di questi scritti illuminanti che ci danno il fuoco il fuoco del racconto alla prossima grazie